Musica Nasce un nuovo giornale online con la voce degli studenti e delle studentesse della Toscana. Generazione News è un progetto che parte dalle consulte provinciali degli studenti e dal Parlamento regionale degli studenti per poi essere recepito dal Consiglio regionale della Toscana, l'Ufficio Scolastico regionale, l'Ordine e la Fondazione dei giornalisti e infine dalle scuole con l'Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze come capofila. Il numero zero della pubblicazione è stato presentato in Consiglio regionale. Abbiamo sempre detto di dare più voce a chi ha meno voce. Attraverso Generazione News i giovani, i nostri ragazzi, nelle nostre scuole possono raccontare il loro punto di vista sul tempo che viviamo. È uno spazio libero, è uno spazio aperto, è uno spazio di confronto. È un luogo in cui provare a raccontare il presente e il futuro. È un modo per dare autonomia e per noi, per poter ascoltare, per poterci confrontare. Un grazie al Parlamento degli studenti, un grazie alla consulta, un grazie all'Ufficio Scolastico regionale. Viviamo un tempo in cui siamo inondati da informazioni, da notizie. Poi trasformare tutto questo in qualcosa di credibile richiede che le persone analizzino quelle informazioni e le trasferiscano agli altri in maniera più credibile. Questo è il lavoro che i ragazzi e le ragazze stanno facendo. Allora un grande in bocca al lupo e penso che ogni volta che si costruisca un giornale, un luogo aperto, si costruisce libertà e noi abbiamo bisogno di vivere in un mondo libero. Perché per loro è uno strumento intanto per esprimersi e per tirare fuori la loro voce che in questo momento è veramente la cosa principale da augurarsi per loro. Più di qualunque altra cosa. È un momento in cui il rischio è che si chiudano completamente in un'energia entropica e quindi esplodono all'interno. Quindi è veramente fondamentale che gli vengano dati gli strumenti per farsi ascoltare, per elaborare quello che loro stanno vivendo che è tantissimo. E oltre a questo è anche uno strumento secondo me per rapportarsi con il mondo, per interpretarlo, per spiegarlo, per imparare a comunicare. Quindi poi nel futuro per imparare a vivere, a lavorare, a fare qualunque cosa. Il giornalismo è una forma di, per loro è quasi uno strumento per fare politica, cioè per entrare in comunicazione fra di loro, per coinvolgersi, per coinvogliare le energie. Quindi l'hanno scelto loro, l'hanno scelto loro e quindi questo ci deve far riflettere. Per l'ufficio scolastico regionale che ha sostenuto questo progetto anche grazie all'accordo con l'ordine e la fondazione dei giornalisti toscani e con il Consiglio regionale toscano è quello di promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi, il promuovere le competenze del saper si orientare in un mondo dell'informazione molto ampio in cui non è semplice poi saper individuare ciò che è giusto da ciò che non è giusto, ciò che è vero da ciò che non è vero e quello di poter, visto che l'idea è nata all'interno delle consulte degli studenti, quello di dare gambe ad un'idea importante, potente come quello di fare un giornale fatto dagli studenti, rivolto dagli studenti, nato fuori dalla scuola ma a vantaggio e per ricadute importanti dentro le istituzioni scolastiche. Innanzitutto è fondamentale avvicinare i ragazzi alla lettura, indipendentemente dal mondo del giornalismo, è chiaro che quando poi appassioni i ragazzi alla lettura il passo successivo è coinvolgerli nella nostra professione, professione che in questo periodo è bombardata da mille informazioni e credo che questo sia un progetto utilissimo per i ragazzi per drenare tutte queste informazioni che arrivano e elaborarle con le loro idee. E' chiaro che noi come ordine dei giornalisti la nostra funzione è quella di assistere, di essere vicini alle loro esigenze e accompagnarli in questo percorso. Tra l'altro siamo molto sensibili all'informazione per i giovani e soprattutto con i giovani. Da un paio di anni che come ordine facciamo un corso contro le fake news è proprio rivolto a tutte le scuole ed è un corso che ha avuto molto successo, siamo riusciti anche a espanderlo alle varie province della Toscana e ci sta dando risposte molto importanti. E questo progetto va nel solco della informazione proprio rivolta ai ragazzi. Siamo una rappresentanza studentesca, il progetto nasce dal coordinamento regionale delle consulte in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana. E per l'appunto abbiamo creato questo progetto, abbiamo dato la possibilità a tutti i studenti della regione toscana per l'appunto di partecipare a questo bellissimo progetto. Allora io parto col dire che in questo momento sono molto contento e anche un po' emozionato perché reputo fondamentale che in questo caso le istituzioni si prendano il compito in qualche modo di emancipare i ragazzi anche sotto un aspetto di vita politica perché oggi purtroppo vediamo molto spesso i ragazzi lasciati fuori dalla partecipazione politica consapevole e questo giornale penso che sia un deciso passo in avanti verso una scuola invece che sia caratterizzata dall'inclusione, quella vera e dalla partecipazione alla vita politica che può derivare solo da un'emancipazione vera ed effettiva. Si avvicina a grandi passi il Natale 2023, si avvicina anche il momento del presepe vivente che ogni anno viene messo in scena a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. L'evento di quest'anno è stato presentato all'interno di una conferenza stampa svolta al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Si torna il domenica prossima 23 dicembre, una bella iniziativa organizzata al Comitato Paglio dei Barchini con le ruote di Castelfranco, un'iniziativa importante perché è un richiamo per tante persone un'iniziativa importante per l'alto numero di persone che partecipano, oltre 100 figuranti è un'iniziativa importante perché ci richiama quelli che sono i valori autentici del Natale è importante perché si svolge all'interno del nostro centro storico, luogo centrale per quanto riguarda la nostra cittadina ed è importante perché vede il coinvolgimento di una realtà associativa che è assolutamente viva. Il Comitato Paglio dei Barchini si occupa principalmente dell'organizzazione del Paglio dei Barchini con le ruote, già è molto caratteristica dal nome, lo si capisce bene, la manifestazione e in più organizza tanti eventi durante l'anno ed oggi presentiamo appunto il Presepe Vivente che da diversi anni caratterizza questo periodo del Natale per la nostra cittadina. Noi come amministrazione comunale diamo l'aiuto, il supporto necessario per l'organizzazione e lo facciamo convintamente perché è estremamente importante sostenere una realtà associativa così viva, importante e qualificata, qual è appunto il Comitato soprattutto in occasioni come queste di iniziative che richiamano valori propri come è il Natale nel periodo che stiamo vivendo. Il Paglio è una cosa tipica da Castelfranchese, poi questa cosa dei Barchini con le ruote credo che sia unica in Italia e la organizziamo tutti gli anni verso maggio, però per Castelfranco facciamo un sacco di altre iniziative e una è proprio questa del Presepe Vivente, diamo una mano anche con un altro gruppo perché un Presepe Vivente c'è da fare tantissime cose, costruire, vestire persone, cercare le persone, insomma è complicato. Quest'anno volevamo segnalare che siccome sono 800 anni da San Francesco che ha inventato il primo Presepe Vivente, quest'anno il nostro Presepe Vivente che si svolge in quattro piazze tipiche di Castelfranco avrà anche delle piccole rappresentazioni di come Francesco ha ideato questa cosa e quindi ci saranno anche brevi rappresentazioni di un paio di minuti, tre minuti, poi ci saranno dei cori, dei balli medievali, insomma sarà un Presepe Vivente molto ricco quest'anno. Il Natale è un momento che segna le vite di ciascuno di noi, il Natale è un modo in cui la nostra terra riscopre le proprie identità. abbiamo presentato poco fa i Presepi nel mondo che raccontano quante differenze ci sono dal punto di vista del Natale nei diversi territori e ora siamo a presentare una bella iniziativa che si svolgerà il 23 di dicembre a Castelfranco, a Pisa, in provincia di Pisa. Considitemi di ringraziare il Sindaco Gabriele Toti per essere qui insieme a noi, una comunità che si riunisce intorno al Natale, tante associazioni che insieme lavorano per mandare un messaggio di speranza, il racconto di un'identità che è quella di Castelfranco e del suo modo di vivere il Natale. Per questo è bello che quel momento non sia un momento solo per chi vive a Castelfranco ma un momento in cui i cittadini della Toscana, da tutta la Toscana, possono andare a conoscere il Presepe Vivente di Castelfranco ma anche andare a vedere quanto c'è e quanta bellezza c'è in questo splendido borgo in provincia di Pisa. Parliamo di phishing e sicurezza informatica. Erano i temi di un seminario dedicato alle truffe telematiche più diffuse sul territorio regionale e nazionale. Illegalità particolarmente odioso e purtroppo in continua espansione. Ecco perché l'iniziativa è stata promossa da Consiglio regionale e Corecom, Polizia di Stato e Feder Consumatori. Noi abbiamo la necessità di non voltarci dall'altra parte rispetto ad un fenomeno che cresce e che purtroppo continuerà a crescere. I furti di identità, i furti informatici. Siamo abituati a difendere le nostre case con i sistemi di allarme. Dobbiamo costruire sistemi di allarme informatici, avere evidenza di come puoi essere truffato, insegnare alle ragazze e ai ragazzi a come ridurre questo rischio. Perché nel futuro con l'intelligenza artificiale è evidente che il rischio di aumento di questi casi esiste. Però per poterlo ridurre è necessario che ognuno di noi sia più formato a ridurre il rischio. Questo è il senso di questa iniziativa che Feder Consumatori insieme al Corecom ci ha voluto proporre. E allora noi come Consiglio regionale dobbiamo spalancare le nostre porte, lavorare per andare nelle nostre scuole, andare a parlare nei centri sociali, nei centri di aggregazione giovanile, nei luoghi in cui si incontrano gli anziani e andare a spiegare cosa accade per ridurre questo fenomeno. È evidente che il mondo va in una direzione che è quella della digitalizzazione sempre maggiore. Ma allora servono strumenti per ridurre il rischio di frodi. È un lavoro che noi vogliamo portare avanti e a cui teniamo molto. Sì, abbiamo ritenuto di organizzarla perché pensiamo che sia un tema di assoluta attualità sul quale non si deve assolutamente abbassare la guardia e non ce n'è mai abbastanza. e quindi c'è bisogno di procedere con una capillare opera di informazione, formazione e educazione digitale dei giovani e degli adulti perché ormai non possiamo fare a meno degli strumenti digitali per le nostre comunicazioni, per i nostri acquisti, per la nostra vita di relazione e ne facciamo spesso un uso inconsapevolmente incontrollato. E questo ci espone a dei rischi gravi che è bene appunto conoscere per poterli prevenire. Sì, noi abbiamo avviato proprio in questi mesi una campagna in tutta la Toscana anche di informazione Corecom Tour su quelle che sono le funzioni, l'evocazione e gli impegni principali del Corecom. In questo senso l'iniziativa di oggi è molto importante, quella promossa dal Consiglio regionale e da Feder Consumatori perché appunto dà voce fino in fondo a una delle problematiche principali che i cittadini, le aziende, gli utenti vivono quotidianamente che è questo appunto delle truffe telematiche, delle truffe telefoniche. E in questo senso c'è un lavoro anche storico del Corecom che il Corecom svolge con il Consiglio web che è quello appunto di fare un po' da mediatore, da negoziatore tra l'utente e le compagnie telefoniche. Noi successivamente crediamo che sia importante appunto coinvolgere l'insieme dei soggetti della Toscana per una grande campagna di informazione in questo senso e noi faremo proprio un bando il prossimo anno quello Toscana e Spot dedicato proprio a questo tema, delle truffe telefoniche, delle truffe online in modo da premiare i migliori video che verranno proposti da un po' da tutta la Toscana. La nostra attività non è soltanto un'attività di repressione dei crimini informatici che sono davvero molteplici ma è fondamentale l'attività di prevenzione anche perché soprattutto dal punto di vista degli attacchi informatici quindi parliamo del phishing, dei ransomware, delle furti di identità sempre più spesso sono attività che vengono condotte dall'estero quindi le attività di indagini sono molto difficili e molto lunghe è fondamentale l'attività di prevenzione quindi riuscire a fornire ai cittadini ma anche agli enti e alle realtà societarie gli strumenti per poter affrontare questi rischi infatti tra le nostre attività principali vi è la diffusione di informazioni sulle statistiche degli attacchi cyber e sui pericoli del momento in questo modo le varie realtà istituzionali e anche private sono in grado di verificare se le loro reti informatiche sono idonee a sopportare eventuali attacchi di quel tipo che noi segnaliamo. Andiamo proprio sul concreto, quali sono i rischi del momento? I rischi principali sono soprattutto i malware statisticamente anche dall'ultimo rapporto Clusit di ottobre 2023 sono percentualmente gli attacchi che vanno più a segno i ransomware sono dei virus che criptano il contenuto di un computer o di una rete e per decriptarlo chiedono un pagamento in denaro normalmente in moneta virtuale e al secondo posto poi abbiamo gli attacchi DDoS che sono degli attacchi che tendono a far crollare il funzionamento di un sito internet e renderlo inservibile e quindi con notevole danno ovviamente per il titolare anche per gli utenti che se ne servono e al terzo posto ma non distaccati di molto c'è il phishing, il classico phishing che si realizza però con modalità veramente all'avanguardia normalmente diciamo sono tre modalità in una arriva prima l'SMS di phishing con un link malevolo cliccando sul link si apre un falso portale normalmente di un istituto bancario dove vengono inserite le credenziali di accesso però per completare il tutto si riceve una chiamata di un falso impiegato di banca per ottenere i codici OTP necessari per concludere il bonifico e la truffa L'arbitro bancario finanziario è stato istituito nel 2009 dalla Banca d'Italia è incommiabile iniziativa perché è uno strumento semplice di facile accesso, economicissimo che consente a molti sfortunati nell'ambito di questi rapporti con le aziende bancarie di ottenere un'attenzione oltre che una tutela prontissima, immediata ed efficiente è un strumento che merita di essere incentivato, esteso, migliorato è sempre possibile e soprattutto non solo nell'interesse del momento patologico diciamo della vicenda dei rapporti ma anche in quello educativo l'educazione sia nei confronti dei clienti sia nei confronti delle aziende bancarie ad una responsabilità sempre maggiore perché tutelino sempre di più i loro clienti nei confronti purtroppo dei malfattori Villa Vittoria è una residenza costruita a fine ottocento per volere degli strozzi ampliata a inizio novecento e acquistata dal conte Alessandro Contini Bonacossi e proprio la villa è la protagonista del libro Villa Vittoria una storia tutta da scrivere e story yet to be told Villa Vittoria oggi è un importante centro fieristico e congressuale e per la realizzazione e disposizione degli arredi furono scelti due tra i più importanti architetti e designer del secolo scorso Gio Ponti e Tommaso Buzzi Beh intanto siamo molto grati alla regione per averci consentito la presentazione in questa bella sala grazie al presidente Mazzeo anche perché poi Villa Vittoria è un immobile della regione toscana quindi presentarlo qui ha un grande valore noi abbiamo cercato di ripercorrere la storia, le origini, la cultura, gli arredi che caratterizzano questa bellissima villa conosciuta soprattutto nel mondo congressuale perché vi si tengono dei congressi importanti che sono apprezzati da tutti e con questo libro abbiamo voluto fare un passo in avanti per poter mettere a disposizione sia del mondo della cultura, sia del mondo dell'economia che anche ovviamente dei nostri maggiori clienti un prezioso cadeau che può essere consultato per vedere davvero quanto di bello è stato creato in questa villa dal fine ottocento fino ad oggi Sì è un volume che cerca di restituire e far conoscere la storia di questo immobile ma anche più anticamente la storia dei territori su quali insiste e i terreni su quali insiste e le famiglie che sono state proprietarie di quell'edificio quindi i Contini prima di Firenze Fiere sono stati gli ultimi proprietari e a loro volta hanno una grande storia da raccontare non ultimo il fatto ed è la ragione del coinvolgimento delle gallerie degli uffizi che una parte della collezione Contini Bonaccossi fu lasciata allo Stato italiano e alla galleria degli uffizi e si può vedere appunto tutt'oggi all'interno del museo e quindi questa è la ragione del nostro coinvolgimento Sono responsabile del settore archivi di famiglie e di persona, arti e raccolte e quindi dei diari di Vittoria Contini Bonaccossi di un fondo intitolato anche a Sibilla Leramo di cui abbiamo mostrato appunto nella mostra che ci fu nel novembre del 2021 la documentazione Io mi sono occupata appunto dell'allestimento di questa mostra ed è per questo insomma che poi ho partecipato anche alla redazione del libro che è stato ora pubblicato nel settembre 2023 Toscana e Firenze sono terra di arte, di cultura, di bellezza e Villa Vittoria e i suoi cambiamenti sono il senso di una città che nel tempo è cambiata Villa Vittoria è un esempio di quanta bellezza c'è nella nostra terra e il suo racconto è anche un modo per omaggiare Sabina Magrini che è stata una giovane direttrice dell'archivio di Stato di Firenze e che purtroppo molto giovane ha perso la vita il suo amore verso i beni paesaggistici della città la rivalorizzazione di Villa Vittoria erano una delle tante iniziative che voltava avanti e oggi essere qui è un modo anche per ricordarla a presto a presto a presto a presto a presto Grazie per la visione!